Salve a tutti, io sono MB Max e benvenuti sul video del 2020 Rewind. Io ho fatto questo video per ringraziare tutti quelli che si sono iscritti, tutti quelli che hanno visualizzato e tutti quelli che hanno commentato. Chi con messaggi spam, chi con ringraziamenti, odi e quant'altro. Fatto sa che comunque avete contribuito. Se pensate che un messaggio, una visualizzazione non possono cambiare il mondo, vi sbagliate. Non so neanche che regalo farvi per questo ringraziamento, però diciamo che posso ringraziare TubeBuddy per fare queste specie di mini 2020 Rewind. Per ringraziare così perché, per esempio, chi si è iscritto o anche chi non si è iscritto a TubeBuddy, che è una specie di organizzazione di azienda che aiuta lo youtuber in alcuni passaggi. Per esempio, mi ha aiutato molto per sapere quali parole, quali frasi sono state adatte per che il video venga visualizzato meglio o venga messo in più pagine. Anche nelle analytics mi faceva vedere alcuni particolari che su YouTube normale non ci sono. Detto questo, io vi lascio al video che ho registrato del 2020 e ci vediamo dopo. Grazie a tutti. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio ancora tantissimo per la visione. Iscrivetevi su... seguitemi pure su Instagram per rimanere sempre aggiornati sui video che arriveranno, anche sulle varie live che farò su Twitch. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti e attivate la campanellina per non rimanere indietro con i video che pubblicherò. Dato che fino a gennaio sarò pieno di impegni, quindi restate sempre attenti. Attivate la campanella, tanto non è che vi costa soldi o che altro. Cliccate ed è finita lì. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo 2021 e al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!